in antisommossa come sempre questa feccia quando è prova di uscire fuori dalle foglie deve sempre, sempre ripararsi dietro i caschi, i manganelli di scudi di chi da sempre li protegge fuori i fascisti da San Paolo è il nostro quartiere a ritenire che qui non c'è spazio per i fascisti, per i nazisti c'è l'Italia che come sempre prova a vendersi come se fosse dalla parte delle persone dove quest'oggi si manifesta in solidarietà alle popolazioni della Siria del Nord che stanno subendo un attacco fascista e genocida da parte della Turchia di Erdogan del meglio armato, del ricco, del più impaurito e del più misero degli esseri umani e tornerò a spararvi ogni volta che sarà necessario anche se oggi mi avete sparato voi sorella senti quest'uomo, è ancora caldo, sembra anche che respiri forse che treme e rifiuta il diverso la prova del loro posizionamento sono gli ospiti di questa giornata che mostrano quale sia la loro posizionamento mette, mette, siete e mette l'exterente mette, siete e mette l'exterente